Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. C'è una notizia che riguarda il mondo italiano, una notizia che in realtà è stata poco o troppo poco discussa e che a me pare degna di essere almeno menzionata e pur telegraficamente commentata. La notizia riguarda It's Art e voi direte cos'è, cos'è, chi era costui per citare Don Abbondio, chi era costui, chi era It's Art, direte voi cos'è, una trasmissione americana, un programma televisivo inglese? No, era un progetto italiano nato nel 2020 sotto legida di Dario Franceschini, il progetto era quello di essere la Netflix della cultura in Italia, un progetto che sembrava anche buono nelle intenzioni, peccato che sia stato, oserei dire, un flop, tant'è che adesso chiude dopo due anni non particolarmente fiorenti. Pochi gli abbonati, si parla di 250.000 abbonati, se ho visto bene, con pochi introiti rispetto alle spese se non altro, così che adesso con vari milioni spesi questo progetto non ha fruttato quanto ci si aspettava e voi direte d'accordo ma mica si valuteranno i progetti d'arte e di cultura sulla base del danaro, verissimo, e tuttavia bisogna fare i conti anche con quelli e purtroppo il progetto lanciato da Franceschini non ha incontrato il successo sperato, quello che spiace è che in parte erano soldi pubblici e quindi sono soldi che evidentemente non hanno dato il giusto risultato e di questo bisogna pur tenere conto. Insomma, un progetto non è andato benissimo e sotto questo riguardo bisognerebbe davvero potenziare la cultura e l'arte in Italia, forse fare la Netflix dell'arte, ecco non è un progetto vincente in partenza, già chiamarlo Itzart in inglese, con una bella lingua come la nostra che fu la lingua di Dante, di Petrarca, di Machiavelli, di Gioberti, di Manzoni, no, bisogna parlare sempre e comunque l'inglese dei mercati per sentirsi all'altezza, per sentirsi non provinciali, ecco non c'è maggior provincialismo se non quello di chi rinuncia alla propria lingua per parlare l'inglese dei mercati, voglio essere chiaro, il provincialismo si dà in due modi, o nel gretto provincialismo di chi non va al di là del proprio naso e pensa che il mondo intero sia il proprio paese, oppure il provincialismo cosmopolita, chiamiamolo così, di chi per aprirsi al mondo rinuncia alla propria identità e fa le cose necessariamente in inglese e chiama magari Itzart il proprio progetto culturale che oltretutto non ha nemmeno dato i risultati sperati, ecco quindi magari come consiglio non richiesto per le prossime iniziative si cerchi di essere meno provinciali e si rivendichi appieno la cultura italiana anche nella lingua perché magari può essere una via di successo maggiore auspicabilmente.